Oggi è stata per me una giornata importante, sono grato per questo riconoscimento. Sono due titoli mondiali di kickboxing professionistici, l'ultimo è quello del titolo mondiale ISCA di kickboxing, conseguito il 25 marzo di quest'anno, 2023, al Casino di Campione d'Italia, mentre l'altro l'ho vinto nel 2021 a Monaco di Baviera, al Deutsche Theater di Monaco di Baviera e quindi grazie appunto a questa vittoria sono attualmente detentore di entrambi i titoli e questo per me è una grande soddisfazione dopo tanti sacrifici e tanto impegno e speriamo sia un altro punto di partenza come sempre. Prima di tutto sul territorio abbiamo una palestra che si chiama la Fight House Pesaro di quale sono appunto il direttore tecnico e quindi alleno amatori, dilettanti, anche atleti professionisti e altri e quindi la divulgazione dello sport e anche dall'altra parte, quindi da una parte lo sport per tutti e dall'altra uno sport anche appunto professionistico a livello dilettantistico, quindi agonistico sicuramente, amatoriale e agonistico. Mentre a livello internazionale sono impegnato da un po' con vari atleti di spessore a livello internazionale per quel che riguarda soprattutto l'MMA, che è uno sport simile, e collaboro con la UFC che a questo momento è la sigla più importante al mondo in termini di appunto di MMA, di sport da combattimento che è negli Stati Uniti e quindi faccio vari seminari in giro per il mondo e alleno atleti appunto professionisti statunitensi e latinoamericani.